E proprio come avete letto nel titolo, non è un fake, tranquilli, oggi vi regalo veramente le cose. Perché vi regalo le cose? Perché oggi c'è da festeggiare, perché il 12 giugno dello scorso anno usciva il primo video sul canale Gastube Drums. E oggi so che è l'11, ma dato che i martedì escono sempre i miei video, ho deciso di tenersi sempre lo stesso giorno facendo questo giveaway per ringraziarvi tutti. Perché quest'anno è stata una figata per me, io sono partito da zero ragazzi, mi avete sempre sostenuto, mi avete scritto cose, mi avete scritto critiche per poter migliorare il canale. Quindi io sono contento della community che si create e spero che possa ingrandersi sempre di più, quindi grazie mille. E detto questo, come tanti su Instagram avranno già visto, ecco tra l'altro seguitemi su Instagram, mi raccomando, perché vedete un po' le cose in anteprima. Mi è arrivato questo pacco da Aramini Strumenti Musicali, che tra l'altro ringrazio perché senza Aramini tutto questo giveaway, questa cosa, non sarebbe stata possibile. Quindi grazie mille Aramini e per adesso vi voglio spiegare come fare a partecipare all'estrazione dei premi e poi vi faccio vedere quali sono questi premi, cosa c'è dentro questo pacco perché ce ne sono veramente tanti. Per partecipare all'estrazione bisogna fare due cose, per prima cosa bisogna essere iscritti a questo canale, quindi se ancora non siete iscritti fatelo subito mi raccomando. E per seconda cosa dovete commentare. Finito. Commentate qualsiasi cosa, commentate ad esempio cosa vi piacerebbe vincere, quando ovviamente commentate dopo che avete visto cosa c'è dentro. Facendo queste due cose, iscrivendovi e commentando, parteciperete direttamente. Poi ovviamente spargete la voce, ditele ai vostri amici, mi raccomando condividetelo sui social, condividetelo su Facebook, taggatemi su Instagram, fate una storia, fate quello che volete. Basta che la voce giri tantissimo perché è una figata pazzesca. Io infatti sono gasatissimo questa cosa e non vedo l'ora di aprire questo pacco. I vincitori quando saranno sorteggiati? Saranno sorteggiati il 26 luglio alle 11 e mezza su questo canale in live, ovviamente. Quindi faremo una live così possiamo anche parlare, sarà la prima volta che possiamo parlare in live e io sarò anche un po' agitato perché non l'ho mai fatta in live. Quindi vabbè, comunque si farà questa live in cui sorteggerò i vincitori. Ovviamente non è che dovete per forza essere lì a vederla live perché poi quel video lì live rimarrà e poi potrete andare a vedere anche in un secondo momento finita la live se avete vinto. Non dovete per forza essere in live, tranquilli. Ma adesso, parte di più importante, andiamo ad aprire questo pacco, andiamo a vedere cosa c'è dentro e quindi andiamo a vedere quali sono i premi. Coltello. Tan 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 tan. Questi unboxing mi piacciono un casino ma allo stesso tempo ho una paura di farmi del male col coltello. Primo premio, no non è vero. Partiamo di qua, dato che li avete visti da poco sul canale. Kick Dumper. Eccoli qui. Ne ho due. Ognuno di voi può vincere uno di questi Kick Dumper. Basta scrivermi qui sotto nei commenti. Tra l'altro, dato che questi li avete già visti, io vi lascio una scheda qui sopra. Così, se non sapete cosa siano questi, potete andare a vedere la recensione tranquillamente e capite quanto sono una figata questi qua. Che sono le sordine per cassa. Quindi, premio numero 1 e 2, Kick Dumper. Poi, rimaniamo in casa One Book. Premio 3 e 4, 2, Performer Pad. Questi qua, anche ve li ho già fatti vedere sul canale. Vi lascio sempre una scheda sopra per andare a vedere la recensione. Questi qua, ragazzi, sono veramente stati la svolta per le sordine. Io li uso tuttora, lo potrete vedere live, lo potrete vedere dove volete. Perché queste veramente sono totali. E tra l'altro, attenzione ragazzi, perché One Book sta facendo uscire cose che vedrete, spero, il più presto possibile. Che non c'entrano né con le sordine, né con le sordine per cassa, niente. Ma sono altre cose e non vedo l'ora di provarle. Le ho. Vi farò l'unboxing tra poco perché è una figata pazzesca. Comunque, premio 3 e 4, One Book a Performer Pad. Cambiamo decisamente genere. Bacchette. Queste paia qua, che sono le Dave Wackel, ve le faccio vedere meglio. Eccole qui, Signature Dave Wackel. Sono fighissime. Io le ho usate per tantissimo tempo. Sono tra le 5A e le 5B. Sono un po' più lunghe delle bacchette normali, ma hanno un peso, un bilanciamento che è veramente una figata. Quindi, me ne sono fatte mandare 3 paia per farvele provare. Tra l'altro, molto particolari perché sono anche verniciate in questo marrone così, bellissimo. A me sarebbe piaciuto un sacco. Quindi, premio numero 567. 3 paia di bacchette Vicfert Signature Dave Wackel. Allora, ultimi premi. Queste sono proprio una figata pazzesca. I 3 premi finali sono 3 pelli della Remo Ambassador X. Perché Ambassador X? Perché a me questa pelle piace tantissimo. La uso live, la uso in studio, la uso sempre. E questa, secondo me, è una pelle molto, molto, molto figa. Anche di questo ho fatto la recensione. Quindi, vi lascio sempre la scheda qui sopra per andarvela a vedere. Questa pelle, praticamente, cos'è? Non è un Ambassador normale, ma è un Ambassador un po' più spessa. Cosa vuol dire? Vuol dire che, al posto di essere 10 mils, questa è 12 mils. Vi assicuro che, per una questione di armonica, per una questione di suono, cambia totalmente. Questa è un po' più spessa, quindi un po' più resistente. Ha un po' meno armonica, ha un suono un pochettino più caldo. È bellissima. Io mi sono innamorato subito di questa pelle. Di queste pelli, come vi ho detto, ne ho 3 e sono apposta per voi. Cosa dovete fare? Lo sapete. Dovete commentare, ve l'ho già detto. Quindi, raga, i premi sono tanti. Bacchette, pelli, One Book Performer Pad e One Book Kick Dumper. Sono 10. Sapete quello che dovete fare? Grazie mille ad Aramini Strumenti Musicali per avermi mandato tutta questa roba da potervi regalare. Qui sotto trovate comunque tutta la lista dei premi. Trovate i link di cui avete bisogno. Se avete qualsiasi tipo di dubbio, scrivetemi un commento qui sotto, così, mentre mi chiedete quello che volete sapere, intanto vi iscrivete anche a questo giveaway. Iscrivetevi al canale, attenzione, non dovete solo commentare, ma anche iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Noi ci vediamo al prossimo video e soprattutto ci vediamo in live il 26 giugno alle 11 e mezza. Ciao!